Maxi operazione di controllo a Castelvolturno, impiegate 230 unità delle Forze dell'Ordine. Giuseppe De Caro. Era stata annunciata lo scorso 7 agosto durante la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Ministro dell'Interno Piantedosi ed è scattata ieri sera l'operazione Interforze che vede 230 uomini impegnati nel controllo di coloro che si trovano agli arresti domiciliari sul territorio di Castelvolturno, a coordinare l'attività pianificata d'intesa con la Procura di Santa Maria Capoavetere la Questura di Caserta. Effettuate verifiche su 180 soggetti di cui tre non trovati in casa. Il servizio ad alto impatto è stato esteso anche a Mondragone, al litorale Domizio. 1644 le persone identificate, 11 delle quali denunciate, una arrestata, operate 7 perquisizioni personali e 4 domiciliari. Controllati 588 veicoli, uno dei quali sequestrato ed elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada. Chiuso uno dei 17 esercizi pubblici finiti sotto la lente di ingrandimento, sequestrate dosi di eroina, cocaina e marioana. Di importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado, ha parlato il Ministro dell'Interno Piantedosi. Sicurezza e legalità rappresentano i presupposti indispensabili per la riqualificazione e la valorizzazione di luoghi ricchi di bellezza e opportunità troppo a lungo trascurati, ha aggiunto il titolare del Viminale.